Assemblea dei lavoratori socialmente utili nel pomeriggio a Sulmona per chiedere al Comune l'integrazione retribuita delle ore. Sono 11 lavoratori in mobilità interessati che, dal 7 agosto di quest'anno, lavorano per il Comune di Sulmona come autisti addetti alla nettezza urbana. La loro collaborazione prevede 20 ore di lavoro settimanale, ma loro chiedono di poter arrivare a 36 ore. Le 16 ore aggiuntive dovrebbero essere coperte finanziariamente dall'amministrazione comunale. Dei problemi ce ne sono svariati, alcuni servizi svolti senza essere autorizzati. Come diceva giustamente in Assemblea prima ci sono anche delle incombenze che gravano sulle nostre spalle, quindi spese da sostenere che normalmente non dovremmo sostenere perché recarci al lavoro dovrebbe essere comunque contemplato nella mensilità che ci viene retribuita. Invece questo non succede, è una cosa anomala che abbiamo voluto segnalare oggi con questa Assemblea, ma insieme a tante altre cose, come dicevamo prima, non c'è un termine ultimo di questo periodo di mobilità presso il Comune di Sulmona. Quindi questo incontro aveva questo termine, questo valore, cioè quello di avere un'attenzione da parte dell'amministrazione comunale su questo argomento. All'incontro, voluto e promosso dai dipendenti, hanno preso parte, oltre ad una rappresentanza di lavoratori, Dante Carrabia della Cisle e Pietro Campanella per la CGL. Ad ascoltare le istanze dei lavoratori, il consigliere di opposizione Luigi Lacivita, che ha dichiarato, chiamerò domani stesso il responsabile finanziario del Comune per sapere se ci sono i fondi per l'aumento di ore. Per le lavoratrici degli scuolabus sono stati trovati, dovranno trovarli anche per voi. I lavoratori hanno riferito di aver avuto un incontro con Anna Grazia Valdo, assessore ai trasporti, per avere rassicurazioni in merito alla loro richiesta. La Valdo ci ha comunicato che fino alla variazione di bilancio per il 2014 non si potrà fare nulla. La variazione c'è stata, ma a noi non è stato comunicato niente, sostengono i lavoratori, che proseguono. Il 31 ottobre scorso abbiamo chiesto un incontro con il sindaco, ma non abbiamo avuto risposte in merito e ci sentiamo messi da parte. Certo è che noi, la cosa che ci dispiace maggiormente, è che siamo dovuti arrivare a questa assemblea aperta, perché non abbiamo ricevuto da parte, nonostante una richiesta scritta protocollata nel 31 ottobre, non abbiamo avuto risposte per un incontro con il sindaco di Sulmona. Purtroppo speriamo che dopo questa assemblea arrivi qualche risposta. È bene ricordare che i lavoratori in mobilità non possono rifiutare di lavorare per le pubbliche amministrazioni e, se lo fanno, viene interrotta loro la mobilità. Infine, per lavorare, non percepiscono nessuna integrazione al loro assegno di mobilità, che per metà di loro scadrà a dicembre 2014. Intanto i sindacati si preparano a chiedere un incontro ufficiale all'amministrazione per capire se esiste la possibilità di integrare l'orario lavorativo degli 11 operai che lavorano in sotto organico rispetto all'esigenza del territorio. Quello che i lavoratori oggi hanno detto, hanno emesso un grido di dolore rispetto a una loro situazione che spesso e volentieri viene travisata. I lavoratori socialmente utili, utilizzati dal Comune e dagli altri enti, sono lavoratori che spesso e volentieri non hanno un minimo di integrazione rispetto al salario. Il che vuol dire che magari l'utilizzo della vettura, l'utilizzo del mezzo per regarsi al lavoro, gli procura indubbiamente anche un danno economico rispetto a questa storia. Questi lavoratori chiedono esclusivamente non solo un indennizzo rispetto a questa situazione, ma la possibilità anche dell'integrazione dell'orario di lavoro. Perché magari anche le 20 ore si rendono conto che per i tipi di servizi per cui vengono collocate non bastano nemmeno. Il che vuol dire, loro dicono, preoccupati anche del loro termine della mobilità. Noi chiederemo un incontro, ma solo e semplicemente per capire come è messo il Comune. Ci rendiamo conto che il Comune in questo momento, attraverso una fase particolare, il distasto riferanziario, che loro comunicano in una certa maniera, però lo vogliamo verificare.